Uomini e donne, Federico Nicotera rivela in quale momento capito che Carola Carpanelli sarebbe stata la sua scelta. È Carola Carpanelli la scelta di Federico Nicotera. Il bel tronista Moro, 26enne ingegnere aeronautico ha lasciato il programma con la giovanissima studentessa di Varese. Nel corso della loro prima intervista ufficiale rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Federico ha confessato che ha capito che avrebbe scelto la bionda corteggiatrice quando ha temuto di averla persa. Nel corso del dating show di Maria De Filippi c'è stato un momento in cui la Carpanelli non si è presentata in trasmissione. L'extronista è andato a cercarla in albergo e ha provato a contattarla per chiarire. La paura di non rivederla più gli ha fatto scattare qualcosa dentro di sé, da quel giorno si è arrivati al dolcissimo epilogo di ieri pomeriggio. Nel corso dell'intervista Carola ha raccontato che quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne non pensava di potersi innamorare così tanto. Invece Federico Nicotera le ha letteralmente rubato il cuore. I due si sentono già una coppia stabile in quanto nel corso dei mesi si è instaurato un sentimento fortissimo. Hanno avuto modo di conoscerci e di comprendere anche le paure e i timori che entrambi avevano dentro di sé. Carola e Federico non temono la distanza, anzi hanno confessato che è stata l'unica cosa che non li ha mai preoccupati davvero. Dopo la scelta hanno passato lunghe ore a parlare anche di questo, cercando le soluzioni migliori per entrambi. Nel frattempo, poche ore fa l'ex corteggiatrice ha pubblicato un intenso post dedicato al suo fidanzato. Federico Nicotera le ha risposto così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.